Per te, per me le lancette, siamo su le giostre, salgo e poi salgo i bucchi e giù. Aiuto! Peter, cosa succede? Mi stanno attaccando! Cosa? Cosa? L'inventore dei sogni, un'opera di Ian McEwan, parla di Peter, un ragazzo con la tua stassa in più fra le nuve. Affronterà avventure. Affronterà avventure. Comanda su Annelina. Proviamola. Mamma di Peter, dove è finito? Affronterà ladri. E prepotenti. Ma soprattutto emozioni. Nella famiglia di Peter, però, c'era anche un quinto membro della famiglia, ed era un gatto di nome William. Era pigro, ormai vecchio, ma prima era un giovanotto ed era bello e pimpante. Dopo non c'era più, ma aveva comunque lasciato un segno importante nella famiglia. O mio Dio, perché sono in questo corto? Peter! Luca come solo? Mi sono inancato. O mio Dio è un angesto, ok? O mio Dio è acco, non c'ero? Dio, perché sono inancato alla famiglia. A ver... Sì, ecco qua. Grazie a tutti.